Tanto per spiegare come funzionano le cose, c'è un davanzale che fa schifo, chiediamo i cittadini di pulire davanti alle proprie case, poi siamo noi i primi che non diamo il buon esempio. Visto che mi sono permesso di chiedere ai piantoni se era possibile una pulita a questi davanzali, questo non è stato possibile, il sindaco lo viene a fare perché ha vergogna di lasciare un davanzale in queste condizioni con cicche di sigarette e qualsiasi altra cosa. Credo che non sia una cosa difficilissima cercare di pulire, però se mi date anche questa, credo che in pochi minuti se uno vuole mettere la buona volontà riesce a fare qualsiasi cosa. E' la so che viene sulle orecchie. Fate anche una foto. Ma questo fa parte di tutta la risistemazione che andiamo a fare. Sì, ma prima che Maggio faccia il ponte di Genova, perché quella roba lì sono troppo attuale.